Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. È uscita la nuova patch, immagino che magari abbiate bisogno di nuove tattiche. Queste sono quelle che sto utilizzando io e che mi hanno portato a fare lo scalino per la divisione Elite in maniera abbastanza facile. Quando ci sono aggiornamenti di questa portata, di solito si genera sempre il panico più totale e si sente quasi la necessità di voler cambiare le tattiche, anche se magari questo non deve avvenire. Nel mio caso specifico però ho riscontrato che il modulo che utilizzavo in maniera preponderante in precedenza, ovvero il 451, fa molta più fatica, visto che in campo c'è più disordine, difendendo con un solo mediano, insomma la situazione non è proprio il massimo per quando si tratta di dover ripiegare. Davanti bene o male il suo continuava a farlo, però sentivo l'esigenza di adoperare un modulo un po' più compatto e soprattutto di rispolverare una tattica che andava tanto in moda l'anno scorso e che potrebbe tornare molto comoda, soprattutto per ovviare ad un problema che andremo a vedere a brevissimo. Il modulo in questione è il 4-2-2-2, o come dicono gli inglesi, il 4-3-2-2. Visto che abbiamo questa linea difensiva a 4, due mediani davanti alla difesa, due esterni che però occupano una posizione intermedia tra l'esterno e il trequartista e le nostre due punte. Per quanto riguarda le caratteristiche che noi andiamo ad utilizzare in una formazione come questa, per i nostri giocatori abbiamo bisogno di una coppia di difensori centrali che si completa, per cui uno che abbia il gioco d'anticipo, in questo caso Militao anche se non ce l'ha, ha quello stile di gioco perché recupera tanti palloni con i contrasti, e Arauco invece ha il blocco plus, che quindi ci dà un po' più di CPU all'interno dell'area di rigore. Per quanto riguarda i terzini, io preferisco avere sempre due terzini completi, due terzini che ci danno la possibilità di fare entrambe le fasi. Abbiamo poi la possibilità di andare ad utilizzare due mediani che si completano anche in questo caso, ovvero uno molto più difensivo e l'altro box to box con alto alto che ci permette di poter dare una mano alla nostra manovra offensiva. I nostri due esterni rapidi, veloci, che siano in grado di poter finalizzare e mettere paura ai nostri avversari, quindi nonostante sia stato patchato, io un esterno con il tiro a giro plus lo porto sempre, perché con il time at verde vi ho dimostrato nello scorso video che funzionano benissimo, e poi le nostre due punte, due punte che devono essere agili, veloci, perché avendo due punte del genere all'interno dell'area di rigore minaccio il mio avversario che posso girarmi da un momento all'altro, da una parte e dall'altra, calciare e quindi andare a segnare. Quindi questo per quanto riguarda la disposizione dei nostri uomini in campo. Per quanto riguarda invece le tattiche, e qui andiamo nel vivo del nostro video, andiamo subito a trovare un elemento che utilizzavamo tantissimo l'anno scorso, ovvero rimaniamo con lo stile di difesa equilibrato, che rimane una costante all'interno di quelli che sono i nostri schemi e le nostre tattiche, ma con ampiezza 1. Per quale motivo utilizziamo ampiezza 1? Proprio per il discorso che i terzini, così come gli esterni delle difese a 3 e delle difese a 5, sembrano essere molto più indisciplinati, perdere tantissimo la loro posizione, per cercare di tenere la linea molto più serrata e quindi evitare di dover andare a prendere il difensore centrale in diagonale a coprire il terzino, cerchiamo quindi di tenere tutta quanta la squadra un po' più stretta. Questo non significa che in automatico la squadra sarà tutta quanta barricata, anzi però potreste essere facilitati in questo modo nelle switchate. Per quanto riguarda la profondità io utilizzo un 63, quindi rimango bene male con un parametro che non è né troppo alto né troppo basso, sulla costruzione della manovra dell'attacco sempre equilibrato con passaggi diretti e per quanto riguarda l'ampiezza utilizziamo un 45, visto che il 422 è un modulo abbastanza largo e andiamo in questo modo ad utilizzare un parametro leggermente sotto quello mediano, ovvero il 50, in maniera tale da far sì che i nostri esterni riescano ad avvicinarsi alle nostre punte e a rendersi più pericolosi. Sui giocatori in aria per favorirne gli inserimenti utilizziamo 6, invece su angoli e punizioni utilizziamo 2. Per quanto riguarda le istruzioni partiamo come al solito dal portiere, che dimentico sempre di cambiare, gli mettiamo uscite sui cross e portiere fuori dai pali, per evitare dunque che i nostri avversari ci crossino oppure ci vadano in contropiede in maniera indisturbata. Sui due difensori centrali non andiamo a mettere assolutamente nulla, quindi rimane resta dietro in attacco, intercettazioni normali e resta in posizione, mentre sui terzini utilizziamo resta dietro in attacco e sovrappunti. Onestamente non me la sono sentita di mettere uno dei due terzini sbloccato, perché provando ho notato che erano un po' troppo poi fuori posizione e rischiavano di esporci a dei rischi che non volevo prendermi. Per quanto riguarda i due mediani utilizziamo sul nostro mediano più difensivo, intercetta le linee di passaggio, resta dietro in attacco e copertura al centro. Per quanto riguarda invece il nostro mediano un po' più box to box, utilizziamo intercetta le linee di passaggio e copertura al centro. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui con attacco equilibrato avrà la possibilità anche di poter salire per dare una mano alla nostra manovra offensiva. Per quanto riguarda poi invece i nostri due COC barra esterni, utilizziamo rientra in difesa ed entra in area per il cross per entrambi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che rientrando in difesa andranno a comporre la nostra linea tipica del 4-4-2 facendo schermo e dando una mano ai terzini, mentre con entra in area per il cross appunto andranno a creare grattacapi ai terzini avversari, liberando spazio ulteriore per le nostre punte. Punte che anche in questo caso non andiamo a utilizzare in maniera speculare, ma utilizziamo sul nostro attaccante di destra solamente rimani centrale. Per quanto riguarda invece l'attaccante di sinistra, utilizziamo rimani centrale, inserisciti alle spalle e rimani in avanti. Questo per quale motivo? In maniera tale che andando uno dei due in profondità riesce a schiacciare quella che è la linea difensiva del nostro avversario, permettendoci di poter manovrare poi palla, arrivare fino al limite e trovare magari l'altra punta libera, che grazie alla sua agilità e grazie magari ad un 5 di skill può tranquillamente girarsi ed andare a colpire indisturbato. Un'ulteriore modifica che potete fare se volete stare un po' più coperti e avere un baricentro ancora più bilanciato o mi andate a mettere rientra in difesa su una delle due punte, oppure quando inizia la partita mettete ripiegamento attaccante in maniera tale che gli attaccanti arretreranno sulla linea di centrocampo, favorendo dunque una prima fase di pressing in maniera molto più coerente anche se non andate a prendere voi l'attaccante e ve lo portate dietro. Raga, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se le proverete e fatemi sapere soprattutto con quale modulo state giocando voi e quale vi sta piacendo di più. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone al vostro Riberoski e a presto. Ciao!